L'ospedale attiva il piano sovraffollamento, 24 posti letto aggiuntivi più 10 temporanei per far fronte alla grossa affluenza nei giorni scorsi al pronto soccorso. L'ospedale Versilia avvia la procedura, ma chiede collaborazione ai cittadini. Inaugurata la nuova palazzina Piloti, i piloti del porto di Marina di Carrara potranno usufruire di una nuova sede che ha sostituito la vecchia, da tempo demolita, posta all'estremità sud dell'attuale banchina servizi. Torna il panettone sospeso di Farmae 94, i panettoni distribuiti a 6 associazioni del territorio che si occupano di sociale grazie alla sinergia tra Farmae e Fondazione Ante. Cinque nuove piante nella pineta di Ponente, gli alberi sono stati piantumati da 6 risorse e acquistati grazie alla donazione di un gruppo di amici frequentatori di uno stabilimento balneare a via Regine. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia, nei giorni scorsi, soprattutto durante il Ponte dell'Immacolata, c'è stato un grande afflusso al pronto soccorso Versilia, afflusso che ha messo in difficoltà in qualche maniera la struttura dell'ospedale. L'azienda sanitaria è corsa ai ripari attivando il piano contro il sovraffollamento. L'ASL Toscana Nord-Ovest è intervenuta sulle problematiche che si sono venute a creare durante il Ponte dell'Immacolata presso l'ospedale Versilia, con la notevole affluenza registrata al pronto soccorso che ha creato disagi e attese prolungate. Una situazione che si è venuta a creare soprattutto per l'accesso di numerose persone anziane che hanno visto riacutizzarsi di patologie croniche. Le misure messe in atto sono state quelle dell'estensione a 24 dei posti letto nel settore media 3, oltre all'attivazione di 10 ulteriori posti letto temporanei. L'ospedale ha cercato di rispondere nel modo migliore, con tanta fatica. Purtroppo abbiamo avuto dei giorni in cui i pazienti hanno aspettato molte ore in pronto soccorso e abbiamo risposto attivando quelle che sono le procedure previste e le azioni previste dalla procedura di sovraffollamento. Quindi le abbiamo messe in atto abbastanza in modo piuttosto veloce fino a dover anche attivare l'altro giorno 10 posti letto buffer, quindi temporaneamente attivi di area medica per accogliere i pazienti. In un momento stagionale come questo però, con l'aumento dei casi di influenza e riaffacciarsi prepotente del Covid, la direzione dell'ospedale consiglia di interfacciarsi primariamente con i propri medici curanti, ma soprattutto di provvedere alle vaccinazioni. Alcuni accessi potrebbero essere evitati facendo ricorso al proprio medico di famiglia, quindi invitiamo la popolazione a contattare come prima cosa il proprio medico di famiglia. E poi sicuramente un'altra azione fondamentale è ricorrere anche alla vaccinazione anti-influenzale e anti-Covid. Sono vaccinazioni con cui dovremo convivere sempre, quindi sarà fondamentale da ora e nel futuro che la popolazione anziana più fragile si vaccini tutti gli anni. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a Marina di Carrara perché al porto è stata inaugurata la nuova sede dei piloti appunto del porto di Marina di Carrara. Un evento particolarmente sentito dall'autorità portuale, quello che si è svolto a Marina di Carrara, dove è stata inaugurata la nuova sede piloti del porto. Riconosciamo e diamo merito, onore alla corporazione dei piloti che per il porto di Marina Carrara rappresentano evidentemente una realtà non solo significativa ma determinante. Il porto di Marina di Carrara negli ultimi anni ha registrato numeri record per le esportazioni e ha dimostrato di godere di un momento particolarmente fertile, aprendo con successo alle crociere e al mondo del turismo. Gli ultimi anni sono stati anni fondamentali nel quale abbiamo toccato molti record, la movimentazione delle merci alle navi più grandi mai entrate nel porto di Marina di Carrara, ai pescaggi maggiori mai avuti. Questo è frutto di audacia e tenacia nostra, dei servizi tecnologici e di chi lavora per noi, l'autorità portuale e la capitaneria. Da capire dopo l'attuazione del nuovo piano regolatore, come si inserirà la nuova sede all'interno del restyling previsto per la banchina. Il nuovo piano regolatore prevede una configurazione diversa per questa banchina, tuttavia ritengo che il tempo che avremo davanti prima della realizzazione di questa nuova banchina servizi sarà sufficientemente lungo per godere anche di questa costruzione appena inaugurata. Spostiamoci a Viareggio dove c'è stata la consegna dei panettoni donati da Farmae e Fondazione Ant alle associazioni sociali che operano sul territorio di Reggio. Per il terzo anno Farmae ha collaborato con la Fondazione Ant per la campagna del panettone sospeso, fornendo i fondi per l'acquisto di 94 panettoni e pandori che sono stati distribuiti a sei associazioni impegnate nel sociale nel territorio di Viareggio. A ricevere la donazione che si è svolta con una breve cerimonia all'interno della sede centrale della società sono stati i rappresentanti della comunità a dimensione familiare dei Sortis 1 e 2 della Misericordia, la Casa Famiglia di Via della Gronda, l'Arca Casa di Don Beppe Socci, l'Istituto Sacro Cuore, il Centro Antiviolenza l'una per l'altra e, nuovo beneficiario da quest'anno, l'albero di Oana Onlus. Sì, sempre stata attiva per noi, è un onore, è un piacere essere amici loro. Noi ci saremo sempre per questo tipo di iniziative, perché Farmae, sin dalla sua nascita, ha sempre cercato di contribuire con le associazioni e anche le attività che sono sul territorio. È molto importante il legame col territorio, noi abbiamo i piedi ben piantati nell'arena dei nostri arenili, quindi ci teniamo e tutto quello che facciamo lo facciamo sul nostro territorio. Restiamo a Viareggio e restiamo in tema di donazioni, però ci spostiamo nella Pineta di Ponente, dove un gruppo di amici ha voluto donare alla città cinque nuovi alberi. Cinque nuovi alberi sono stati piantumati nella Pineta di Ponente grazie alla donazione effettuata da un gruppo di amici che frequentano il bagno Due Sorelle di Viareggio. Si tratta di due esemplari di Cerci Siliquastrum, conosciuto come l'albero di Giuda, e tre di Paolonia, che sono stati messi a dimora dagli operai di Sea Risorse, aiutati dai piccoli rappresentanti dei clienti del bagno. I fondi sono stati raccolti attraverso donazioni libere effettuate in occasione di serate conviviali organizzate presso lo stabilimento balneare. Abbiamo una clientela e un gruppo di amici eccezionale che sorreggono il bagno e lo spingono. Noi, premessa, è tutto frutto di feste, divertimenti, scene, sicché è piacevole fare queste cose qua, riuscire anche a donare. In genere si donava a carità, questa volta abbiamo scelto di donarlo. Grazie soprattutto a Carlo Ambrosini, che poi è cliente, amico, e traina un po' tutti verso queste iniziative. Noi siamo soltanto lo strumento e ne traiamo vantaggio perché ci divertiamo un po' tutti, sia con i clienti che con gli amici. Sea Risorse è l'azienda partecipata del Comune di Viareggio che cura gran parte del verde pubblico. La Presidente, Valentina Ceragioli, ha voluto ringraziare questo gruppo di cittadini che hanno voluto fare questo dono alla città, auspicando che possa essere, d'esempio, per altre donazioni. Sea Risorse è assolutamente contenta di veicolare queste iniziative e siamo anche aperti a nuovi contribuenti per la nostra città. È un regalo assolutamente gradito. Al termine dell'operazione di piantumazione, i piccoli giardinieri hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Grazie. Voltiamo pagina, parliamo di politica, perché il Partito Democratico di Viareggio ha chiesto all'amministrazione comunale maggiore collaborazione con le associazioni del territorio e maggiore partecipazione con i cittadini. Scarso coinvolgimento di associazioni e cittadini nelle scelte politiche che ricadono sulla città. Il Partito Democratico Viareggino torna a chiedere all'amministrazione comunale maggiore apertura e lo fa attraverso due punti fondamentali l'istituzione di una consulta di quartiere e la creazione di consigli di quartiere che possano in qualche modo sopperire alla soppressione delle circoscrizioni. Noi quindi avanziamo due proposte che sono una, la prima è quella di una costituzione di una consulta che mette insieme tutte le associazioni per affrontare gli aspetti economici, sociali che riguardano lo stesso aspetto della sicurezza che riguardano la nostra città l'altro aspetto è che si ridia vita ai consigli di quartiere che vengano costituiti recuperando quello che erano una volta le circoscrizioni. Per discutere di queste proposte il PD ha anche richiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto a cittadini e associazioni. Noi su questi presenteremo delle nostre proposte specifiche e chiediamo che venga fatta a breve un consiglio comunale dove aperta la città e alle sue associazioni in cui si affronti questi temi e si dia vita appunto a queste due nostre proposte. Due scuole primarie del territorio di massa sono state interessate dal progetto di Gaia per la scoperta dell'acqua. Alla scoperta dell'acqua, progetto didattico di Gaia SPA ha fatto tappa all'interno delle scuole di massa primaria Casone e primaria di Turano dove ai bambini è stata consegnata la borrazio ecocompatibile marina. Abbiamo deciso di investire e di continuare a investire anche per quest'anno scolastico nella formazione e nella sensibilizzazione ambientale. Devo dire che il progetto che tutti conosciamo come alla scoperta dell'acqua in realtà la più grande scoperta è la consapevolezza dei nostri bambini la consapevolezza dell'importanza della risorsa e soprattutto abbiamo capito che sono il più forte e potente veicolo di diffusione all'interno delle loro famiglie. A consegnare il gadget insieme ai libri Acqua in Mente il sindaco di massa Francesco Persiani e l'assessore all'ambiente Roberta Cerbo. Alla consegna dei gadget sono seguite lezioni sul ciclo dell'acqua e le buone pratiche tenute dall'esperto Alfredo Brunini, storico dipendente del gestore idrico. Gaia sta portando all'interno delle varie scuole del territorio un argomento fondamentale che è quello dell'acqua ma soprattutto quello del risparmio dell'acqua che è una problematica che un po' coinvolge tutto il territorio nostro ma comunque in generale su tutto il territorio nazionale. Io non posso che ringraziare Gaia per questa intensa attività che sta svolgendo di educazione, di formazione ma anche per raccontare quello che viene fatto da tutta l'azienda, da tutti i lavoratori come si impegnano naturalmente dalle fonti dalle sorgenti fino agli ultimi punti di sbocco dell'acqua. Chiudiamo con l'iniziativa della misericordia di Viareggio in occasione del Natale il mercatino organizzato nella sede di Via Cavallotti e l'incontro con Babbo Natale. Con l'avvicinarsi delle festività natalizie la misericordia di Viareggio ha preso una bella iniziativa per rendere indimenticabile il Natale dei più piccoli. L'idea intitolata Caro Babbo Natale vorrei tanto incontrarti offrirà ai bambini la straordinaria opportunità di incontrarlo di persona nella notte della vigilia ed è un gesto affettuoso che la misericordia di Viareggio ha deciso di mantenere viva riportando un tocco di magia nell'atmosfera natalizia. I piccoli potranno così ricevere i loro doni direttamente dal generoso uomo vestito di rosso creando un momento speciale che rimarrà nei loro cuori per sempre. Per partecipare a questa iniziativa e far sì che Babbo Natale porti i doni direttamente a casa basta contattare la misericordia di Viareggio. È un'opportunità unica per i genitori di organizzare una sorpresa indimenticabile per i propri bambini regalando loro la gioia di un incontro con il vero Babbo Natale. Ma le iniziative della confraternita non finiscono qui. Nella sede storica di Via Cavallotti è stato restito un incantevole mercatino di Natale un luogo dove l'atmosfera festosa si mescola con il profumo di dolci tradizionali e la magia delle luci natalizie. Bene, con questo si chiude la pagina dedicata a Viareggio, alla Versilia del TG Noi. Io mi fermo qua. Grazie per l'attenzione e arrivederci.